Buon viaggio! 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 alla rotatoria prendere la prima uscita uscire adesso la prima uscita Grazie a tutti. 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 Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Tenersi a sinistra. Grazie a tutti. 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 Tenersi a tutti. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Tenersi a destra. Tenersi a destra. Tenersi a destra. Grazie a tutti. Tenersi a destra. 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 tenersi a destra e poi uscire a destra uscire a destra uscire a destra tenersi a sinistra 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.